Salve a tutti, buongiorno Alice, grazie dell'invito e di questo spazio che Retrobottega è sempre molto felice di raccontare quello che sta realizzando con Verona Antiquaria. L'edizione di giugno sarà dedicata al tema del viaggio, perché tutti noi dopo questo lunghissimo periodo abbiamo veramente voglia di tornare a viaggiare e a vivere nella vita quotidiana all'aria aperta per stare bene e vedere nuovi paesaggi. E quindi in particolare invitiamo tutti, sappiamo che San Zeno ha questa meravigliosa basilica dedicata al nostro santo patrono e la dedichiamo in particolare a un elemento che è la pala di San Zeno del Mantegna, che è custodita nell'altare maggiore della basilica. Se qualcuno non lo sa vi invito di andare a vederla perché è un'opera meravigliosa, che racconta proprio i grandi viaggi del santo, per cui l'elemento storico dedicato al viaggio è proprio la pala del Mantegna, sita proprio nell'altare maggiore della basilica. E quindi questo tema del viaggio lo raccontiamo anche attraverso quella che è l'esperienza del racconto, di quelle realtà che fanno vivo il quartiere di San Zeno, che lo abitano tutti i giorni. E lo dedichiamo in particolar modo a un negozio molto speciale, molto particolare, che io chiamo un concept store, che è il Verona Marathon Hub. È un negozio che è situato proprio nel quartiere all'inizio di Circonvalazione Oriani e in questo negozio dedicato agli sport, alla corsa in particolare e ai runners, si trovano al di là degli elementi proprio dedicati allo sport, anche tutte quelle che sono le discipline sportive e formative dedicate proprio all'approccio alla corsa, alla corsa per i protagonisti di questo sport, per cui per gli atleti e per i professionisti. E i consigli con personale veramente esperto dai formatori, quelli che sono i trainer e con loro abbiamo fatto anche una bellissima collaborazione in quanto attualmente, come sai, stiamo realizzando il Mura Festival proprio lì attaccato al quartiere di San Zeno, nel bastione di San Zeno e San Bernardino e con il Verona Marathon Hub e in particolare con il Verona Marathon Team stiamo realizzando una bellissima iniziativa unica in Italia che si svolgerà il 10 di luglio. Cosa succede? Accade il primo Mura Trail italiano. Che cos'è? È un trail fondamentalmente, proprio una corsa con asperità del terreno che verrà fatta su per 18 chilometri ma la sua particolarità è che si svilupperà nei nuovi chilometri delle mura di Verona che sono, come noi sappiamo, ciò che la rende patrimonio unesco. È una corsa in notturna, una corsa che partirà alle 8 di sera da Piazza Pozza con un percorso veramente bellissimo che è proprio una monumental run, cioè per cui all'interno del centro della città passando attraverso le mura della città e quindi diciamo che è una corsa poi inserita nel calendario delle corse professionistiche della FIDAL per cui è una corsa anche per i professionisti ma non solo, per cui invito tutti a partecipare ed ha questa caratteristica veramente particolare di utilizzare il nostro meraviglioso patrimonio storico ed è un'eccezione perché in Italia non esistono di altre. Quindi invito tutti a andare a vedere il sito di murafestival.it dove troverete una sezione dedicata al Mura Trail se vi interessa iscrivervi o che ne so, venire a tifare o vedere una corsa in notturna.